Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Ferrino Liss Special, le ciaspole medie di gamma di casa Ferrino, che sono sicuro però vi sorprenderanno anche a voi, soprattutto per il loro prezzo. E adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della censione completa. Inizio subito raccontandovi quali tipi di ciaspole troviamo in commercio, ovvero solo loro. Esistono solamente queste Ferrino Liss Special senza neanche delle taglie. E questo è il primo ma di queste ciaspole, ovvero che non avendo delle taglie bisogna andare incontro a un paio di compromessi. Ovvero se si ha delle persone molto piccole, molto leggere, è una ciaspola che sicuramente vi garantirà un'ottima galleggiabilità, ma saranno molto grosse e dovrete camminare con le gambe abbastanza aperte, in modo un po' innaturale. In compenso però se siete delle persone belle e grosse, quindi che arrivano anche a 100 kg, li troverete estremamente bene perché hanno davvero un'ottima galleggiabilità. Quindi già qua capiamo che sicuramente queste Liss Special non sono proprio la scarpa adatta per una persona piccola, una persona estremamente leggera. Ma andiamo ad analizzare le caratteristiche di queste Liss Special iniziando dalla parte inferiore. Qui troviamo semplicemente 6 spuntoni, 6 ramponcini che vanno a garantirci grip. Devo dire che grip comunque lo garantiscono su terreni abbastanza semplici, il problema è quando iniziamo ad andare a trovare dei traversi tanto complicati. Su dei traversi semplici, quindi se facendo un'escursione troviamo 10-15 metri di traverso, non è un problema perché comunque il telaio ci dà una buona stabilità. Ma non è sicuramente una ciaspora con cui andrà a fare dei terreni molto tecnici e dei traversi abbastanza complicati. In compenso però la ramponatura messa sotto la punta del piede, devo dire che è abbastanza buona, svolge il suo ottimo lavoro. Quindi da questo punto di vista tutto non è la norma. Passando a questo punto a parlare proprio della struttura del telaio di queste Liss Special. Come vi dicevo hanno un telaio che comunque dà un'ottima stabilità perché è bello spesso, soprattutto sulle parti laterali. Davvero devo dire che se è neve fresca, se è neve dura, comunque tende a dare un'ottima stabilità. La galleggiabilità, come vi dicevo prima, anche se arrivate fino a 100 kg, è molto buona. E mi è piaciuto molto anche l'angolo d'attacco della ciaspora perché è bello accentuato, in caso di neve molto fresca e molto alta vi aiuterà ad assuperarla senza nessun problema. Parlando della parte superiore, iniziamo dall'alzatacco. Qui troviamo un'alzatacco veramente molto semplice. Alzionabile solamente a mano, è un pochino durino, dico la verità. Col bastoncello non riuscirete mai ad azionarlo. Bisogna mettersi lì e soprattutto all'inizio smollarlo un pochino perché è abbastanza duro. In compenso però troviamo sempre la comoda clip per andare a chiudere il ciaspo e evitare che ci ballano nel momento in cui andiamo a trasportarle. Poi quanto riguarda invece la piastra, questa naturalmente si può muovere avanti e indietro in base alla lunghezza del nostro piede. Va bene, da un 36 a un 48. E per quanto riguarda l'alloggio del tallone è bello strutturato, ci garantisce davvero tanto sostegno. La chiusura è classica con doppio cursore, ovvero nella parte interna troviamo una clip per andare ad aprire, andare a settare la prima volta che compriamo le ciaspole e poi possiamo dimenticarcene. Invece nella parte esterna troviamo il classico cricchetto da andare a stringere, tipo i cricchetti da snowboard. È molto semplice, intuitivo e svolge un ottimo lavoro. Il pad che va sulla parte del collo del piede è un pochino durino perché è fatto in plastica. È fatto in una plastica che è un po' durina, devo dire che se stringete davvero tanto sentite un po' la pressione. Sicuramente un pad fatto in tessuto, come vedremo nelle prossime ciaspoli, il ferrino sarebbe stato meglio. Infine poi, per quanto riguarda la parte anteriore dove andare ad appoggiare la punta del piede, qui troviamo una semplice chiusura fatta da una fibia da andare a tirare. Estremamente semplice, però direi altrettanto efficace perché comunque lavora bene. La cosa che più mi ha stupito di queste ferrino lista special sono i materiali. Di solito quando parliamo di ciaspole, l'avete visto in tante altre recensioni, sono super graffiate, le ciaspole in alcuni punti davvero, vediamo la plastica che è bella bella assegnata. In questo caso devo dire che la ciaspola è ancora quasi intatta. Nonostante io l'abbia utilizzata per una decina di uscite, anche in punti in cui è strusciato contro roccia e via dicendo, devo dire che è veramente intatta. Mi ha stupito talmente buono il materiale con cui è fatta. Poi ha anche una texture simile a roccia, come la chiama ferrino, che non è per nulla male, anche alla vista è abbastanza bella come ciaspola. Ma arriviamo a capire dove è meglio utilizzare queste ferrino lista special e a chi le consiglio. Questa secondo me è un'ottima ciaspola per le persone entry level, intermedie. Una persona che si sta avvicinando al mondo delle ciaspole, che vuol fare magari anche delle escursioni in deve fresca anche per tante ore, ma non va a fare dei terreni abbastanza tecnici in cui ci sono tanti traversi, in cui bisogna andare ad avere una ciaspola magari con una grampolatura inferiore o migliore. E appunto sui terreni, come dicevo, in deve fresca va benissimo, perché la galleggiabilità è davvero buona. Neve durina inizia ad essere un pochino un limite, perché comunque la rampolatura inferiore c'è, ma non è così accentuata. Per tutto quello poi che va oltre la semplice neve dura, lì davvero non penso che siano le ciaspole migliori. Esistono altre ciaspole ferrino sicuramente più adatte. Dunque arriviamo alle conclusioni, parliamo anche del prezzo, perché queste ferrine on list special si trova molto spesso anche sotto i 100€. È un prezzo veramente molto interessante, perché se uno vuole acquistarsi un paio di ciaspole, con quale farsi una passeggiata al rifugio, e occasionalmente anche farsi delle belle passeggiate in quota, con bella neve fresca, vanno assolutamente bene. Come vi dicevo, niente roba tecnica, ma se state cercando il vostro primo paio di ciaspole, con quale affacciarvi a questo mondo, sicuramente è un'ottima, ottima soluzione. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!